sai cosa? finché il gioco non si muove non lo prende ecco uuuuuh uuuuuh minchia quello grande non l'ha vista per quello che è il filmato non lo vieni troppo guarda è un boccone questo qua era uno tipo guarda si chiamano di super rosa i pinkie si come è lo e mi sa che è un pinkie quello il plasma guarda è uno tipo Grazie a tutti.